Musica Wewe ragazzi e bentornati Come voi tutti ben saprete con la patch 10.10 sono state introdotte le smg ovvero la categoria di smg in quanto le smg erano già su salva al mondo e anche su battle royale ma non esisteva una vera e propria categoria e diciamo che ciò su salva al mondo non limitava tanto anzi era molto meno confusionale rispetto a quello che è adesso ovvero prima le smg funzionavano o come pistole o come assalti e quindi potevamo buffarli o come pistole o come assalti dalla patch 10.10 quindi hanno introdotto questa nuova categoria di smg e hanno fatto un miscuglio di perk nel senso hanno fatto un po' un casino perché prima hanno dato delle funzioni poi hanno rilasciato una nota in cui ascoltavano più o meno i nostri feedback e hanno preso già dei provvedimenti quindi andremo a leggere tutto insieme e cercherò di essere il quanto più chiaro possibile per spiegarvi tutto al meglio salve a tutti volevamo dare un avvertimento che nell'aggiornamento 10.20 realizzeremo i seguenti buff sulle smg per quanto riguarda le perk degli eroi oltre alle pistole quindi make it count e hip shot che sarebbero le due perk rispettivamente di betelgeist ranger ben assestato e the die ranger colpo della cintola attenzione però se si inseriranno due vantaggi che applicano esattamente lo stesso buff agli smg come ad esempio assault damage e make it count quindi se andremo a mettere il 225% di danno critico sugli assalti e il 225% di danno critico sulle pistole cercando di raggiungere cifre elevatissime col danno critico per esempio questo ve lo sto facendo io come esempio quindi se andremo a mettere mazza assalto urbano negli slot e betelgeist ranger il buff si applicherà a tutti i tre tipi di armi sì ma gli effetti non saranno raddoppiati sugli smg quindi avremo semplicemente un buff normalissimo quindi fate bene attenzione a questo inoltre stiamo attualmente esaminando un problema in cui gli aumenti di montespago potrebbero non funzionare correttamente grazie a tutti coloro che hanno fornito feedback e sensibilizzato a questo problema quindi finalmente un'altra volta ci fanno sapere che è un errore loro le ricompense di montespago sono attualmente sbagliate in zone endgame perché appunto se facciamo una missione all'88 o la facciamo al 140 riceviamo più o meno la stessa ricompensa e questo è ridicolo per il mio raga nel 2020 veramente dovete mettere le ricompense adeguate a livello di potenza se no la gente non ci gioca a livelli di potenza più alta è inutile è inutile ci saranno lobby vuote perennemente vuote quindi sbrigatevi a fare questo cambiamento epic che lo vogliamo veramente tutti quanti un'altra cosa di cui volevo parlarvi ed è un piccolo spoiler quindi se non volete chiudete il video ma è piccolissimo ve lo garantisco è il kit musicale esclusivo di salva al mondo ovvero noi sbloccheremo questo kit musicale questo è un leak raga direttamente da iFireMonkey se volete seguirlo su Reddit è un americano dei migliori di quelli che pubblicano leak di tutti i generi battle royale salva al mondo tutti i tipi comunque che cosa ci fa sapere in sostanza un kit di musica per salva al mondo è sotto lavorazione sotto il nome di Music Pack 00 salva al mondo default e attualmente riproduce la canzone principale del menu di gioco questo kit di musica sembra qualcosa che potrai guadagnare giocando appunto a salva al mondo e potrai utilizzarlo in entrambe le modalità questa è una cosa molto positiva perché raga è una cosa che noi sbloccheremo giocando a salva al mondo e sarà utilizzabile in entrambe le modalità quindi questo cosa mi fa pensare al di là del fatto della musica eccetera eccetera che comunque loro stanno prendendo considerazione salva al mondo stanno cercando di risollevare il gioco adesso va un po' a rilento perché non ve lo so dire ci investono poche risorse ci investono quello che vogliamo io non spetta a me giudicare raga purtroppo non so neanche come funzionino sotto lavorazione queste cose però sono molto contento di questo sono molto contento anche di altre cose Magist ha detto che la stagione 11 ok ci ha rimandato ancora di una stagione però ho detto che ci reserverà delle grossissime sorprese raga una cosa che secondo me è appunto limita molto salva al mondo e mi da anche particolarmente fastidio è il fatto che loro siano tra virgolette obbligati a buttare fuori patch in contemporanea con quelle di battle royale e se per esempio noi abbiamo bisogno di una patch d'urgenza non ce la fanno per non farla fare a tutti quelli che giocano a battle royale se la patch è corregibile senza dover scaricare qualcosa nel gioco allora le misure le prendono subito ma per esempio se c'è da fare una patch d'emergenza in cui c'è da scaricare qualcosa ci pensano non una non due ci pensano 10 volte prima di farla scaricare anche agli altri utenti questa cosa a me mi da parecchio fastidio non so voi ma mi fa capire molto che salva al mondo è punto primo è obbligato a buttare fuori le patch in contemporanea con battle royale e battle royale ha dei tempi settimanali buttano fuori veramente idee una dietro l'altra non si sa più a che giocare in modalità creativa eccetera eccetera quindi cosa succede? che per la nostra gioia molte volte le patch di salva al mondo vengono fatte prima delle nostre aspettative magari prima anche di quello che dovrebbero uscire e ciò comporta mille bug mille errori lo vedete anche voi stessi raga però non sono da scusarsi perché ci sono ancora bug del day one che sono ancora tuttora presenti nel gioco mentre su salva al mondo siamo più o meno sempre ancora qua che aspettiamo ancora le ricompense di montespago aspettiamo un futuro mondo aspettiamo il bioma di montespago aspettiamo i vari bug almeno quelli principali che vengano fixati insomma raga ci sono tante cose che comunque vanno sistemate a fare il mio su ciò si è esposto su reddit anche un noto youtuber americano dicendo la sua e ricevendo anche la risposta da Epic Games è in queste risposte che si nasconde ciò che ci interessa a noi attualmente sta lavorando a un vlog come lo era stato per il set di eroi che ci faceva vedere un po' di egglites ci spiegava un po' com'era il nuovo set di eroi come sarebbe stato ok adesso lo abbiamo avuto avremo un prossimo vlog che ci farà vedere qualcosa per le prossime season perché attenzione leggete la risposta 4 stiamo costruendo qualcosa che i players dell'endgame sicuramente piacerà credetemi quando dico che questa è tosta non sarà lanciata nella stagione 10 quindi non aspettatevelo nella stagione 10 perché c'è ancora un sacco di lavoro da fare bene raga finalmente abbiamo qualche spoiler io sono sempre curioso sono uno veramente veramente curioso anche perché poi quando mi fisso con un gioco ci nerdo particolarmente e quando continuano a aggiungere cose fare cose come in questo caso come lo è su salva al mondo mi piace veramente tantissimo apprezzo l'impegno che ci stanno mettendo certo ci sono delle cose comunque che andrebbero sistemate però non possiamo lamentarci per i 20 barra 40 euro che abbiamo speso per questo gioco io sono molto contento che comunque sia ancora in fase di sviluppo e continuerà a svilupparsi raga continuiamo a grindare per questo periodo le missioni farmiamo e mettiamoci da parte le risorse perché presto salva al mondo molto probabilmente cambierà totalmente che dire io sono curioso di sapere anche la vostra nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate secondo voi nella stagione 11 ma cosa succederà? Bella bella! Ciao! stai